Ciao da Federico, l'ho fatto ancora, ho acquistato su Temu un bel po' di prodotti che mi sono proprio arrivati l'altro giorno e quindi perché non scoprirli assieme? Perché ho acquistato ancora su Temu? Qualche mese fa avevo acquistato dei prodotti per la bici avevo fatto un video dedicato di quei prodotti, li sto ancora utilizzando oggi la qualità è molto buona e in più Temu ha il vantaggio di aver reso gratuito entro 90 giorni quindi entro tre mesi, allora andiamo a scoprirlo, questa volta non più della bici ma degli articoli per la casa, per l'ufficio, quindi un po' diversi dall'altra volta ma andiamo a vederli, andiamo a scoprire cosa c'è all'interno di questo primo pacco il primo prodotto, eccolo qui, un aspirapolvere per auto, mini aspirapolvere con USB quindi ricaricabile, al prezzo di 14,99€, andiamo a vederlo assieme ecco qui come si presenta, molto compatto, piccolino, perfetto per l'auto abbiamo anche la prolunga, con la possibilità di mettere anche questo accessorio viene dato anche il cavo di ricarica è una buona potenza aspirante perfetto da tenere sempre in auto, magari quando ci facciamo uno spuntino si smonta facilmente per andare anche a svuotarlo un'ottima qualità per 14,99€, veramente un ottimo prodotto prodotto numero due, eccolo qui, cercavo proprio un portafoglio in fibra di carbonio chiaro, sono un ciclista ed è un materiale che mi piace eccolo qui come si presenta, col portatessere una bella finitura, una chiusura con bottone, materiali se sei un nuovo iscritto puoi usufruire del coupon sconto che trovi qui in descrizione di ben 100€ quindi scarica subito l'app e va subito a curiosare tra migliaia di prodotti che sono presenti spedizione gratuita e in caso di ritardo un buono di 5€ tutto diviso per categorie, uomo, donno, bambino, sport, insomma tantissimi prodotti e ogni giorno ci sono sempre nuove offerte per usufruire del codice sconto di 100€ andate nel repilogo ordine in alto a destra andate ad inserirlo, utilizza e poi effettua l'ordine avrete uno sconto di ben 100€ mi sembrano veramente ottimi qui c'è il tasto per far uscire le tessere infatti qua possiamo inserire anche delle tessere e qua ci sono degli altri scomparti per mettere le banconote prezzo 2,99€ prossimo prodotto, eccolo qui, mettetevi già gli occhiali da sole perché è veramente molto colorato è un cavo di ricarica USB-C, USB-A andiamo a testare subito se funziona lo collego al powerbank, lo collego allo smartphone tac, funziona? si funziona, sta caricando ottimo anche questo prodotto, veramente mi piace il colore solo 1,05€ mi piace anche che sia protetto con questa tipologia di rivestimento che lo rende anche più duraturo e evita anche di fare delle fastidiose pieghe altro prodotto è con mini compressorino portatile questo permette di gonfiare i palloni la macchina, quella della bici, della bici da corsa gonfiare il materassino quando andiamo in spiaggia al mare e quindi un accessorio pressoché indispensabile se non si vuole usare la classica pompa metterci più tempo e far tanta fatica libretto di istruzioni incluso troviamo il cavo di ricarica sì perché qui all'interno c'è una batteria trasportabile non abbiamo bisogno di nessun filo una volta caricato il testo superiore serve per accenderlo e spegnerlo ma anche con una pressione veloce cambiare l'unità di misura da psi a bar a kpa a chilogrammi per centimetro quadrato con i tasti più e meno si imposta la pressione desiderata e col tasto superiore parte il compressore qui invece troviamo gli accessori da collegare alla pompa quando dobbiamo gonfiare il materassino oppure il pallone da calcio oppure la bici da corsa qui troviamo l'attacco classico che è l'attacco per l'auto per le mountain bike ottimo prezzo 25,49 euro è comoda quando si è in officina a sistemare la bici avere sempre una torcia da lavoro 4,49 euro ecco come si presenta il packaging nel fondo abbiamo il magnete quindi una torcia magnetica nella parte laterale 4 led che ci vanno a indicare la carica della batteria arriva quindi anche carica una luce frontale eccola qui spenta abbiamo varie intensità della luce eccola qui e anche lampeggiante quindi veramente non manca niente in questa torcia bella compatta materiali che mi sembrano di una buona qualità ve la posso far vedere anche i tasti qui troviamo il punto di ricarica bella compatta fatta veramente molto molto bene ed è anche comoda eccola qua adesso arriva un piccolo giocattolino antistress ho sempre voluto averne uno sopra la scrivania tanto per avere un oggetto che osservi e ti rilassa almeno quello dovrebbe essere il suo scopo vari colori della sabbia all'interno faccio vedere una piccola base e facendolo ruotare va a creare dei giochi un po' particolari prezzo 12 euro e 49 ecco il prossimo ho già intuito che cos'è è un caricatore usb questo ha ben tre porte da 5 volte 1 ampere si collega alla presa della corrente vado subito a testarlo il cavetto di prima vediamo se funziona e funziona sta ricaricando lo smartphone curiosi? andiamo a scoprire il prossimo prodotto qui vedo l'immagine della classe energetica della lampadina e quindi immagino sia una lampada molto molto particolare troviamo il suo cavo usb per andare a collegarla un controller un interruttore retroilluminato vado ad accenderla eccola qui guardate si può regolare sia l'intensità della luce più e meno poi un tasto dedicato anche per andare a cambiare il colore wow veramente molto molto bella e particolare mi piace un sacco il prezzo di questa lampada 15 euro e 79 ecco il prossimo un set di chiavi 46 pezzi solo 20 euro virgola 99 ecco qui come si presenta qui abbiamo le varie tipologie di cacciavite a croce a taglio le chiavi torx abbiamo anche varie bussole che vanno dal 4 al 14 cacciavite il cricchetto le varie prolunghe chiave a t insomma con 20 euro e 99 si porta a casa veramente un kit completo la fattura mi sembra anche buona per l'utilizzo fai da te vanno più che bene bello questo astuccio dove si possono tenere tutte assieme approvato prossimo articolo molto utile lo avevo già simile di un'altra marca purtroppo non mi ricarica più l'orologio qui possiamo ricaricare l'orologio lo smartphone e anche le nostre auricolari quindi tre in uno vediamo com'è all'interno molto compatto quindi possiamo portarcelo anche in viaggio si alza da questo lato e dietro possiamo anche regolarne l'inclinazione ci sono tre tacche ecco qui come si presenta vado a testarlo allora provo a mettere l'orologio funziona metto lo smartphone e funziona e infine vado a mettere anche le auricolari e sta caricando anche queste perfetto riesce a caricare tre dispositivi contemporaneamente come promesso con una piccola spesa spero che abbiate ancora un po' di tempo per stare in compagnia perché veramente con 150 euro ho comprato un sacco di cose e la qualità wow mi sorprende ogni volta è comodo se devo fare delle misurazioni avere un calibro ma quelli digitali sono veramente molto molto costosi non sapevo cosa aspettarmi da un calibro devo essere sincero è fatto molto molto bene materiale non è acciaio è fibra di carbonio c'è anche un piccolo la protezione in modo tale che la batteria non fosse in funzione ma entra in funzione solamente togliendo la linguetta costo di un calibro in carbonio non mi crederete mai 4 euro e 99 classici tre tasti un off cambio di misura a millimetri o inchi e anche la possibilità di andare a zerarlo nella posizione in cui vogliamo è anche un bello schermo ben visibile e anche il profondimetro quindi possiamo andare a misurare anche la profondità veramente bellissimo in fibra di carbonio soddisfatto a pieno anche di questo articolo ed ecco qui un altro prodotto questa è una borraccia color porpora ci sono diversi colori molto interessante questa indicazione qui abbiamo l'indicazione della capacità che arriva fino a 750 ma comunque è suddivisa dall'altro lato invece ci dice quando bere tipo ogni ora e anche la quantità e grazie a questa scala sapremo esattamente quanto abbiamo bevuto altra cosa interessante un tasto una piccola cannuccia quindi si beve anche agevolmente senza dover per forza andare a rovesciarla con una protezione e un tappo a vite eccolo qui all'interno il tubicino da collegare e anche un piccolo laccetto simpatico eccola qui per il trasporto 3,59€ altra borraccia questa in color nero sempre gradiente quindi dal nero passa al bianco doppia colorazione mi piace molto il materiale con cui è fatta anche qui troviamo gli orari e la quantità d'acqua da bere questa è da 600ml nella parte anteriore abbiamo una sicurezza per andare a bloccare il meccanismo di apertura apertura rapida e anche qui troviamo un boccaglio per andare a bere un cordino per andare a trasportarla nella parte interna ho visto che c'è addirittura anche un filtrino quindi anche questa approvata prezzo 4,49€ ultimi due articoli di questo pacco eccola qui il pezzo forte una cassa bluetooth portatile all'interno si può mettere anche un ATF card si ricarica usbc vediamo com'è solo 9,49€ quindi molto economica come cassa bluetooth e primo tac troviamo le istruzioni all'interno ecco come si presenta la cassa nella parte posteriore troviamo in una bella gomma morbida anche i tasti cavo AUX per andarlo a collegare aereo e il classico cavo di ricarica allora mi sono collegato velocemente basta andare a cercare sullo smartphone il bluetooth TG117 si può comandare direttamente da qui il volume e anche l'accensione spegnimento sentiamo come suona non male bella rumorosa solo con 9€ qui troviamo anche il sistema per andare a creare i bassi un bel tessuto che va a ricoprirla comunque un ottimo prodotto mi piace anche esteticamente è leggera si abbina velocemente cosa bella che è disponibile in tante colorazioni ultimo articolo di questo primo pacco una lampada probabilmente dall'immagine l'avrete già riconosciuta 24,99€ quindi ha un prezzo stracciato per questa tipologia di lampada ma adesso sono curioso di vedere la qualità ecco come si presenta wow e voilà eccola qui una bella lampada da tavolo con soft touch luce sia nella parte superiore che inferiore possiamo avere diverse colorazioni quindi una luce calda fredda o più giallastra a seconda illumina sia nella parte inferiore che in quella superiore bella staffa qua d'appoggio bella pesante tutto metallo il materiale wow che dire veramente ottima e fa anche una bella luce se siamo su un tavolo non dà fastidio a una o l'altra persona e rende anche un'illuminazione bella soffusa secondo opacco questo fortunatamente è qui vi annoierò un po' meno ci sono meno oggetti e anche qualcosa che potrebbe veramente interessarvi molto particolare allora vado a scoprire il primo eccolo qui temo che cos'è? un bello zaino eccolo qui i materiali sono quelli classici di uno zaino soli 9,49 euro però ci sono tante tasche c'è una tasca qui all'anteriore una seconda tasca è anche bella capiente una terza cerniera e una terza tasca eccola qui troviamo anche una tasca laterale sia da un lato e anche dall'altro e infine un'ultima cerniera per lo scomparto più grande qui troviamo anche una tasca separata e degli spallacci belli imbottiti quindi anche questo è un buono zaino per 10 euro prossimo prodotto eccolo qui vediamo cosa c'è all'interno trovo un altro zainetto questo più classico nella colorazione total black un po' più urban una tasca qui all'anteriore è anche imbottita quindi se vogliamo andare anche a portare il portatile è una tasca con doppia cerniera con doppia zip dal lato all'altro più capiente 9,49 euro il suo prezzo imbottita sia nella parte retrostante che quella anteriore e inoltre troviamo un'uscita usb se abbiamo magari il nostro power bank all'interno abbiamo anche questa idea di passare il cavo inoltre nella parte interna si trovano anche diverse tasche e una tasca anche qui separata da questa fibia all'interno è presente anche il cavo di ricarica poi da passare e mettere lateralmente come materiali mi sembra veramente buoni utilizzati e anche questa estetica minimale non è niente male prossimo prodotto questo mi piace molto per la sua estetica 15 euro e 49 lampada con orologio adesso andiamo a scoprirla molto molto carina anche il suo cavo di alimentazione si comporta da cassa bluetooth quindi si può abbinare velocemente allo smartphone sentiamo come suona l'autoparlante risulta bello rumoroso è anche un buon suono non solo una cassa bluetooth con l'orologio ma permette di caricare lo smartphone e si lo sta caricando funziona anche in modalità di carica quindi anche un bel design un orologio anteriore la possibilità poi di andare a cambiare i colori veramente molto molto bella ci sono varie modalità quindi veramente simpatica fa veramente una bella luce e un bel effetto prezzo 15 euro e 49 inoltre si può utilizzare anche senza filo perché ha una batteria al suo interno ha la possibilità anche di inserire una micro sd questo permette quindi di ascoltare la musica direttamente dalla scheda oppure andare a connettere tramite aux 1 stereo oppure andarlo a collegare bluetooth attraverso lo smartphone veramente interessante questo prodotto a un piccolo prezzo sono ormai addirittura d'arrivo ultimi due prodotti eccone qui uno e voilà cosa ci sarà all'interno io chiaramente lo so già ed eccolo qui all'interno rullo di tamburi è un parasole per l'auto eccolo qui bello grande andiamo a riempire tutta la stanza ecco come è fatto è un bel telaietto il problema molto spesso è che questi dispositivi tendono a cadere questo invece basterà andarlo a collegare qui nella parte alta dello specchietto e sta su da solo proprio questo sistema dove all'interno c'è una asta in un metallo apposito che poi si va a ripiegare molto velocemente queste tipologie di pannelli con questo sistema prezzo per proteggere i nostri interni dal sole 7 euro e 49 ecco questa altra lampada e mancava proprio questa all'appello quindi tutti i prodotti che avete visto con soli 150 euro è stata lunga mostrarveli tutti andiamo a scoprire quest'ultimo e adesso vado a montarla ed eccola qui questa è una luce RGB non è finita qui perché guardate questo telecomandino quanti tasti ha quanti funzioni ha con questo piccolo telecomandino si possono cambiare tantissime funzioni sia dalla funzione auto da come cambiare i colori oppure mantenere fisso un colore come settare le varie luci come cambiare i giochi di luce quindi come variare da un colore all'altro insomma tantissime funzioni una stupenda lampada e un costo veramente irrisorio in dotazione viene dato un cavo per l'alimentazione ci sono tre piedini che si possono richiudere che quindi rendono bella stabile la lampada da terra ma nulla ci vieta di metterlo anche in altre posizioni quindi per creare una luce particolare anche all'interno dello studio se siete dei nuovi iscritti di temù vi lascio il codice sconto ben 100 euro da poter spendere in modo gratuito grande vantaggio è quello del reso gratuito entro 90 giorni quindi entro tre mesi se il prodotto non vi interessa più potete restituirlo vi lascio quindi il link in descrizione spero che questo video vi sia stato utile alla prossima ciao da federico ciao